La perturbazione che fino a ieri ha portato estesi anche locali fenomeni temporaleschi sulla nostra regione, si sta dirigendo velocemente verso est permettendo una rapida ripresa delle condizioni meteorologiche che saranno buone per almeno due o tre giorni con temperature tra l'altro in generale ripresa. Avremo una situazione di bel tempo quasi ovunque con scarsa nuvolosità, limitata essenzialmente alle zone interne. Solo sulle zone immediatamente a ridosso della costera tirrenica ci potrebbero essere deboli e locali piogge che potrebbero presentarsi specie nelle ore centrali della giornata. In serata avremo schiarite ovunque. La ventilazione di Maestrale sarà presente ovunque con rinforzi sulla collina materana. Sia il Marrionio che il Tirreno risulteranno generalmente mossi. Le temperature saranno più o meno stazionarie con una lieve diminuzione nei valori minimi che saranno di 8 gradi a potenza e 12 a matera. Le massime stazionarie o in lieve aumento andranno dai 16 di potenza ai 20 di matera. Tendenza per domani. Un promontorio di alta pressione garantirà bel tempo su tutta la regione con cielo sereno o poco nuvoloso. Avremo ancora un po' di Maestrale in via di attenuazione. Le temperature a causa del cielo sereno saranno insensibile diminuzione nei valori minimi ma saliranno di 2 o 3 gradi in quelli massimi. La sfilata dei Turchi a potenza sarà quindi senza insidie.